Sette stabilimenti balneari del litorale centrale di Andorra hanno ridisegnato la posizione dei trespoli dei bagnini in modo da poter sorvegliare anche le spiagge libere. Un progetto pilota che ha visto i gestori consorziarsi e realizzare, con l'aiuto dell'ufficio circondariale marittimo di Loano e della delegazione di spiagge di Andorra, una disposizione delle torrette nel tratto di litorale fra il Molo, Tor e Ederdal e la spiaggia libera attrezzata del Lama. Fra le spiagge libere che ora saranno sorvegliate dai bagnini è anche quella della colonia estiva. Come hanno spiegato i gestori degli stabilimenti balneari, l'obiettivo è quello di poter controllare anche le spiagge libere, dove negli anni scorsi si sono create potenziali situazioni di pericolo e il progetto è stato sviluppato a partire da gennaio con la collaborazione della Capitaneria di Porto. Il progetto raccoglie il plauso del Comune di Andorra e in particolare di Marco Giordano, consigliere delegato al Demanio, che ha ringraziato i gestori degli stabilimenti balneari per il lavoro fatto.